Conosco Francesco Monetti da 23 anni, all'epoca eravamo due ragazzi che studiavano la chitarra e sognavano di farlo di lavoro un giorno. Francesco oggi è diventato un bravissimo musicista, molto eclettico e anche un bravissimo produttore. Insieme a Alberto Sanna sta infatti realizzando un nuovo progetto discografico al quale tu potrai contribuire mediante l'utilizzo di MusicRaser. Dagli un'occhiata! Grazie!